Io direi che funziona veramente molto bene, non andrò avanti. Uno degli argomenti più scottanti nel mondo delle orologerie tra gli appassionati sono indubbiamente i graffi. Lo diciamo sempre, gli orologi vanno usati, gli orologi con i loro segni del tempo sono affascinanti, poi al primo graffio normalmente in molti piangono io stesso. Ci tengo particolarmente quando un orologio è nuovo, è anche vero però che poi mi piace usarli senza alcun problema. Lo stesso octo finissimo che oggi al polso lo uso anche sotto la doccia, insomma, passato il primo periodo di innamoramento i graffi diventano una cosa normale. Eppure molto spesso si parla di come eliminare graffi sulle parti lucide e sulle parti satinate. Lo abbiamo fatto anche qui su Toc, più volte anche con l'aiuto di altri amici come per esempio lo zio Poli e oggi voglio parlarvi di un prodotto, il Lumix Cleaner, che mi è stato inviato proprio per essere testato qui sulla scrivania di Toc. Quindi, senza perdere altro tempo, io direi di lanciare la sigla, 3 secondi e vi spiego di che si tratta. Il Lumix Cleaner è un prodotto italiano, l'azienda è italiana, Marco mi ha contattato personalmente e mi ha chiesto di provare questo prodotto. Io l'ho fatto prima di pensare a un video perché volevo prima capire effettivamente di che cosa si trattasse e devo anche dire che Marco mi ha chiesto proprio questo, cioè quello di provare il prodotto gratuitamente per poi capire se volessi o meno portarlo in un video. Beh, se siamo qui, evidentemente qualcosa di buono c'è. La doverosa premessa è che le satinature, le lucidature vanno fatte fare a dei professionisti, questo è indubbio. E' anche vero però che ci sono sul mercato per l'appunto dei prodotti come CapeCod, ma come anche il nostro Lumix Cleaner, che servono a rimuovere dei piccoli graffi o magari delle piccole ossidature delle parti lucide, dei metalli o dell'oro, per esempio, senza doversi necessariamente ogni volta rivolgersi a dei professionisti per dei restauri completi. E la particolarità di questo prodotto è che non soltanto contiene una pasta ben fatta ed efficace per le parti lucide, ma anche delle spugnette con la giusta grana per le parti satinate, che forse è la parte più complessa e più difficile quando si parla di lucidatura fatta in casa. Ho provato per voi il prodotto sia sulla maglia centrale lucida di un bracciale Rolex, sia su una maglia satinata di un bracciale Oyster Rolex, con dei risultati che onestamente mi hanno soddisfatto, ma non dico altro perché girerei la camera per farvi vedere direttamente con i vostri occhi. Ecco qui il nostro pacco già evirato dell'etichetta, che chiaramente contiene informazioni personali, e che contiene il nostro pacchetto, come vi dicevo, un prodotto nuovo, Lumix Cleaner, che ci invia il fondatore, Marco, per provarlo assieme, perché non si tratta soltanto di una recensione, ma si tratta di una vera e propria prova sul campo di quello che questo prodotto promette, perché Lumix Cleaner non soltanto contiene dei prodotti per la lucidatura degli orologi, che abbiamo già visto anche con altri sistemi di cui ho parlato io stesso, per esempio PoliWatch per alcuni vetri acridici, o per esempio il Cape Code per le parti lucide dell'acciaio, ma anche dell'oro, sebbene con l'oro bisogna sempre fare moltissima attenzione, Lumix Cleaner offre una cera simile a quella Cape Code, in pratica, che promette appunto la lucidatura, ma anche qualcosa di cui si fa sempre fatica a parlare, ovvero un prodotto per la satinatura degli orologi. Vedete? Usare soltanto sulle finiture satinate. Sono due spugne che hanno la stessa grana per le parti satinate degli orologi. C'è anche il panno, come normalmente c'è anche nei prodotti Cape Code, proprio per strofinare poi la nostra cera utile alle lucidature, e a questo punto non ci resta che andare a provare direttamente questo prodotto su dei bracciali che ho preparato per l'occasione. Allora, ho preso con me il bracciale di un Rolex a maglia centrale lucida, utilizzato, perché li utilizzo, lo faccio vedere anche qui, in condizioni, insomma, da ripristinare, senza esagerare, perché ora il mio scopo non è portarlo a nuovo, ma verificare quanto questo prodotto sia efficace, vediamo un po' che cosa succede sulla maglia centrale lucida della nostra clasp. Questo lo togliamo. Intanto il prodotto che arriva è questo, è questa pasta, e lo utilizziamo con il panno in microfibra. Vediamo un po' che cosa succede. Naturalmente aggiungo che io sto passando il prodotto sulla parte lucida sopraelevata rispetto alla clasp, e non sto facendo forza sulle parti satinate, anche perché la parte lucida per l'appunto è staccata, è più alzata. A differenza invece delle maglie classiche del bracciale, dove il piano è lo stesso tra parte satinata e parte lucida, e quindi in questo caso la parte satinata andrebbe protetta, normalmente con dello scotch in gomma, dello scotch carta, che appunto non faccia strofinare il prodotto sulla parte satinata. In questo caso non c'è problema, perché per l'appunto, essendo sopraelevata, non c'è pericolo di strofinare sulle parti satinate. Qui potete vedere che è rimasta della pasta nera, tipico di quando si lucida il materiale, l'acciaio, l'oro, l'argento, proprio perché la crema va a rimuovere delle parti nell'ordine dei micron di materiale, e a quel punto chiaramente dovrebbe ritornare la parte lucida del bracciale. Allora, dopo un po' di lavoro, veramente poco, stiamo parlando di forse un minuto, vediamo un po' che cosa è successo, lo puliamo semplicemente passando il panno, e vediamo qui, ecco, i segni naturalmente continuano ad esserci, perché bisogna fare un lavoro molto più intenso per poter rimuovere tutti i segni, però come potete vedere, ve lo faccio vedere anche qui, quindi la parte lucida ha riacquistato lucentezza e i primi graffi sono effettivamente andati via. Io continuerei a questo punto, così vediamo effettivamente che cosa succede. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora, lo scopo di questo video è farvi vedere il prodotto, io direi che funziona veramente molto bene, non andrò avanti perché non mi interessa riportare a nuovo questa chiusura, anche perché è una clasp che utilizzo, quindi domani sarà segnata di nuovo, però mi piace molto questo prodotto perché essendo una pasta molto consistente e meno liquida del classico Cape Cod, è molto più semplice da utilizzare, sporca di meno innanzitutto da quello che vedo, è altrettanto efficace, posso assolutamente dire, è anche più facile e più precisa da utilizzare perché per l'appunto non rischia di finire su tutte le parti satinate del bracciale e la pasta Cape Cod è pericolosa quando succede questo perché va ad aggredire il metallo anche quando non si strofina. In questo caso invece la nostra pasta è più precisa, rimane, deve dove rimanere e anche se finisce sulle parti satinate non va a consumarle soltanto attraverso la sua azione chimica. Ora per la nostra parte satinata del discorso invece, che forse è anche la più interessante, dato che è sempre molto difficile capire come satinare e come dare anche la giusta grana, la giusta rifinitura alle parti satinate, ho preso una maglia Oyster, sempre Rolex, che diciamo è anche uno dei prodotti più utilizzati da chi guarda quindi inutile fare tentativi diversi e su questo prodotto qui vediamo un po' che cosa succede. Adesso la smonto in maniera tale da non andare a toccare le altre, queste sono maglie mai lucidate quindi partiamo da una lucidatura originale della maglia ma per l'appunto rovinata e vediamo la spugnetta contenuta nel nostro Lumix Cleaner che cosa conviene. Ok, la maglia è questa, prendiamo una delle due spugnette Naturalmente trattandosi di una maglia piccola andare dritti con la spugnetta è molto semplice è chiaro che se doveste per esempio pensare di satinare un intero bracciale dovete realizzarvi delle guide perché essendo lungo potrebbe essere semplice sbagliare il senso, il verso della satinatura e fare poi delle satinature storte che sono brutte da vedere quindi insomma ci vuole accortezza oppure ci vuole semplicemente manualità Una delle cose molto comode della spugnetta è che consente di fare degli errori perché se voi per esempio pensasse di satinare il bracciale con la carta vetro la cosa più semplice è che verrebbero appiattite le forme delle maglie che sono a fagiolo come potete vedere e questo naturalmente andrebbe a rovinare definitivamente proprio la satinatura e la forma della maglia intanto vi faccio vedere che qualcosa stiamo ottenendo devo dire che questa spugnetta è molto leggera e infatti a differenza di altri metodi la satinatura è molto bella e molto lucente e mi sembra insomma molto molto vicino a una satinatura originale e allo stesso tempo le imperfezioni della maglia come potete vedere non vanno via immediatamente come invece accade per esempio utilizzando o la spugnetta verde dei piatti quella classica o della carta vetro lì bastano due o tre passate per togliere i graffi ma anche per rovinare abbastanza facilmente la maglia in questo caso invece ci vuole un po' di lavoro in più evidentemente perché è molto sottile la grana della nostra spugnetta e questo naturalmente ci consente anche di ottenere per l'appunto una satinatura più bella, più omogenea e anche più precisa come potete vedere un po' di materiale la nostra spugnetta lo asporta chiaramente in natura nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma come sicuramente saprete però è anche vero che lucidare, satinare una sola maglia è abbastanza complicato perché non ci sono supporti per tenerla ferma e quindi ci vorrebbe qualcosa, ci vorrebbe un perno che mi consenta di tenerla ferma e quindi passare con più naturalezza la spugnetta sulla nostra maglia vediamo un po' se lo trovo con uno spernatore dovremmo essere in grado di mantenere la maglia senza farcela scappare in questo modo lo vediamo un po' direi che ci siamo ci siamo alla grande allora la satinatura a me piace molto è molto molto omogenea ci sono ancora dei segni adesso proviamo a toglierli del tutto ma volevo farvi vedere che la satinatura è molto omogenea è molto sottile come effettivamente deve essere perché anche questo tipo di satinatura dà lucentezza ai bracciali in acciaio satinati quindi proviamo a insistere come vi dicevo la spugna che si adatta alla forma della maglia consente di non rovinarla ma per l'appunto di darle la satinatura giusta anche se la maglia ha una forma un po' a fagiolo come nel caso degli oyster di Rolex ecco qui effetto che da un punto di vista della satinatura a me piace molto e come potete vedere per l'appunto non è di quelle satinature che rimangono con dei graffi molto profondi a vista ma la faccio vedere anche qui è una satinatura per l'appunto secondo me molto ben realizzata che insomma serve a togliere in maniera amatoriale dei graffi dei piccoli segni senza andare a rovinare ma anzi ripeto con un risultato veramente veramente ben fatto veramente lucido e giusto come dovrebbero essere le satinature ed è un bello strumento che diciamo risolve più che altro aggiunge al solito kit di lucidatura anche la possibilità di andare a rimuovere dei piccoli graffi sulle parti satinate in maniera tale da poter magari avere una la possibilità di rimuovere dei piccoli graffi che molto spesso insomma non sono graditi insomma un prodotto che indubbiamente fa quello che promette mi ha convinto anche la semplicità di utilizzo della pasta che peraltro non è maleodorante come Cape Cod che quando ho utilizzato ho sempre dovuto indossare delle mascherine FP2 in realtà perché mi dava veramente fastidio alle vie respiratorie mentre in questo caso è una pasta praticamente in odore e anche abbastanza solida da essere precisa sulla parte che si vuole lucidare premesso che bisogna sempre stare attentissimi alle parti satinate e che vanno protette con uno scotch normalmente io utilizzo uno scotch carta di quelli che vendono in farmacia per i cerotti e per le ferite e poi anche una bella sorpresa quella delle spugnette per le satinature perché effettivamente consentono di fare una satinatura leggera e molto simile alle satinature originali che vediamo quantomeno sui bracciali oyster rimuovendo dei piccoli segni senza però rovinare quella che è l'estetica del bracciale salvo naturalmente poi far restaurare quando sarà necessario l'intero bracciale l'intero orologio a dei professionisti accreditati non è un prodotto che costa poco indubbiamente ma è anche vero che è un prodotto che fa tutto quello che un collezionista può richiedere la lucidatura e la satinatura in maniera abbastanza semplice anche per chi è alle prime armi o non ha la sufficiente manualità l'alternativa indubbiamente è il cape code ma soltanto per le parti lucide e naturalmente con dei piccoli difetti che questo lumix cleaner in realtà mi è sembrato correggesse come appunto l'odore troppo forte ma anche la facilità di utilizzo perché come vi dicevo il cape code è molto liquido e soprattutto è molto chimico quindi quando finisce sulle parti satinate inizia ad agire anche se non state strofinando trovate tutte le informazioni sul lumix cleaner nella descrizione di questo video e anche nel primo commento così è di più immediata lettura io ringrazio la lumix cleaner per avermi consentito di provare questo prodotto e di parlarvene sperando di aver fatto cosa gradita a chi fosse alla ricerca di qualcosa di facile utilizzo anche per le satinature che ripeto è la parte forse più importante più interessante di questo prodotto e dopo avervi ringraziati per essere stati qui con me vi do appuntamento a una prossima puntata qui su TOC ciao iscriviti al nostro canale